Ciao a tutti! Il motivo che vi presento oggi è un motivo sfalsato, quindi come vedete abbiamo sulla destra una sorta di trafori e poi sulla sinistra sempre dei trafori però come vedete sfalsati, quindi da qui iniziamo con i trafori e qui invece iniziamo dopo, una volta che da questa parte li terminiamo. È un motivo abbastanza semplice da realizzare, quindi possono provarci anche le principianti, devono però saper gestire i gettati e le diminuzioni. Vi faccio vedere come si presenta sul davanti e come si presenta sul dietro. I ferri pari o ferri di ritorno, le maglie vengono lavorate come si presentano e quindi tutte a rovescio. Allora, il motivo è un multiplo di 40 maglie, alle quali aggiungiamo 2 maglie più le 4 di vivagno, cioè 2 per ogni lato, che andranno a formare il bordino. Per quanto riguarda l'altezza invece, il motivo si realizza in 22 ferri, dopodiché si rincomincia da capo. Allora, cosa significa questo? Che noi monteremo sul ferro 40 maglie e avremo 2 blocchi. Se vogliamo ripetere il motivo, dobbiamo ripetere altre 40 maglie e alla fine aggiungeremo le 2 maglie. È un motivo che possiamo utilizzare per svariati progetti. Va bene per delle copertine, per dei cardigan, per dei maglioni, per delle maglie, volendo anche per delle sciarpe, dipende sempre dalla vostra fantasia. Va bene per dei cuscini? Andiamo adesso a vedere come si realizza. Ho montato sul ferro un totale di 46 maglie. Vado a montare 40 maglie del motivo, più 2, più le 4 di vivagno, cioè 2 per ogni lato, che andranno a formare il bordino. Partiamo dal primo ferro e andiamo a lavorare insieme un solo motivo. Vivagno. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta come fare il vivagno e lavoriamo due rovesci, otto diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Due rovesci, otto diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Due rovesci, otto diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Ripetiamo questo motivo. Chiudo il ferro con due rovesci. Uno e due e il vivagno. Secondo ferro. Lavoriamo le maglie di vivagno a rovescio perché siamo sul rovescio del lavoro e il motivo lavoriamo tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. Terzo ferro. Vivagno. Due rovesci. Quattro diritti. Uno, due, tre, quattro. Una diminuzione semplice. Spostiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorare. Lavoriamo la seconda maglia a dritto e accavaliamo la prima sopra la seconda. due diritti. Un gettato. Due rovesci. Un gettato. Due diritti. Due maglie insieme a dritto. Quattro diritti. Quattro diritti. Uno, due, tre, quattro. Due rovesci. Otto diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Due rovesci. Otto diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Ripetiamo questo motivo. Chiudo il ferro con due rovesci e il vivagno. Quarto ferro, tutte le maglie a rovescio. Quinto ferro, vivagno, due rovesci, tre diritti. Uno, due, tre. Una diminuzione semplice. Due diritti. Un gettato. Un diritto. Due rovesci. Un diritto. Un gettato. Due diritti. Due maglie insieme a diritto. Tre diritti. Due rovesci Otto diritti Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto Due rovesci Otto diritti Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto Ripetiamo questo motivo Chiudo il ferro con due rovesci E il vivagno Sesto ferro Tutte le maglie a rovescio Settimo ferro Vivagno Due rovesci Due diritti Una diminuzione semplice Due diritti Un gettato Due diritti Due rovesci Due diritti Un gettato Due diritti Due maglie insieme a diritto Due diritti Due rovesci Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Due diritti Due diritti Scusate due rovesci Otto diritti Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto Ripetiamo questo motivo Chiudo il ferro con due rovesci E il vivagno Ottavo ferro Tutte le maglie a rovescio Vivagno Due rovesci Un diritto Una diminuzione semplice Due diritti Un gettato Tre diritti Uno, due, tre Due rovesci Tre diritti Uno, due, tre Un gettato Due diritti Due maglie insieme a diritto Un diritto Due rovesci Otto diritti Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto Tre, quattro, cinque, sei, sette e otto Due rovesci Otto diritti Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto Ripetiamo questo motivo Chiudo il ferro con due rovesci E il vivagno Decimo ferro Tutte le maglie a rovescio Undicesimo ferro Vivagno Due rovesci Una diminuzione semplice Una diminuzione semplice Due diritti Un gettato Quattro diritti Uno, due, tre, quattro Due rovesci Quattro diritti Quattro diritti Uno, due, tre, quattro Un gettato Due diritti Due maglie insieme a diritto Due rovesci Uno, due, tre, quattro Cinque, sei, sette, otto Due rovesci Otto diritti Otto diritti Uno, due, tre, quattro Cinque, sei, sette e otto Ripetiamo questo motivo Chiudo il ferro con due rovesci E il vivagno Dodicesimo ferro Tutte le maglie a rovescio Tredicesimo ferro Invertiamo le parti Quindi il traforato finirà a sinistra E diciamo il motivo appunto maglia di riso Verrà trasferito sulla parte destra Quindi Vivagno Due rovesci Otto diritti Uno, due, tre, quattro Cinque, sei, sette e otto Due rovesci Otto diritti Uno, due, tre, quattro Cinque, sei, sette e otto Due rovesci Quattro diritti Uno, due, tre e quattro Una diminuzione semplice Due diritti Un gettato Due rovesci Uno e due Un gettato Due diritti Due maglie insieme a diritto Quattro diritti Quattro diritti Uno, due, tre e quattro Ripetiamo questo motivo Chiudo il ferro con due rovesci E il vivagno Quattordicesimo ferro Quattordicesimo ferro Tutte le maglie a rovescio Quindicesimo ferro Vivagno Due rovesci Otto diritti Uno, due, tre, quattro Cinque, sei, sette, otto Due rovesci Otto diritti Uno, due, tre, quattro Quattro, cinque, sei, sette e otto Due rovesci Tre diritti Uno, due e tre Una diminuzione semplice Due diritti Un gettato Un diritto Due rovesci Un diritto Un gettato Due diritti Due maglie insieme a diritto Tre diritti Uno, due e tre Ripetiamo questo motivo Chiudo il ferro con due rovesci Uno e due E il vivagno Sedicesimo ferro Tutte le maglie a rovescio Diciassettesimo ferro Vivagno Due rovesci Otto diritti Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto Due rovesci Otto diritti Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto Due rovesci Due diritti Una diminuzione semplice Due diritti Due diritti Un gettato Due diritti Due rovesci Due diritti Un gettato Due diritti Due maglie insieme a diritto Due diritti Uno E due Ripetiamo questo motivo Chiudo il ferro con due rovesci E il vivagno Diciottesimo ferro Tutte le maglie a rovescio Diciannovesimo ferro Vivagno Vivagno Due rovesci Due rovesci Otto diritti Uno Due Tre Quattro Una diminuzione Una diminuzione Semplice Due diritti Due diritti Un gettato Tre diritti Uno Due E tre Due rovesci Tre diritti Uno Due E tre Un gettato Due diritti Due maglie insieme a diritto Un diritto Ripetiamo questo motivo Chiudo il ferro con due rovesci E il vivagno Ventesimo ferro Tutte le maglie a rovescio Ventunesimo ferro Vivagno Due rovesci Otto diritti Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto Due rovesci Otto diritti Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto Due rovesci Una diminuzione Semplice Due diritti Un gettato Un gettato Quattro diritti Uno Due Tre E quattro Due rovesci Quattro diritti Uno Due Tre E quattro Un gettato Due diritti Due maglie insieme a diritto Ripetiamo questo motivo Chiudo il ferro con due rovesci E il vivagno Ventiduesimo e ultimo ferro Tutte le maglie a rovescio Bene Come possiamo vedere Il motivo è praticamente terminato Per ripeterlo Non dobbiamo far altro che ripetere i ferri Dal numero uno Al numero ventidua Il motivo e il video sono terminati E noi ci vediamo alla prossima Ciao ciao